Ciao Trader, siete su Scapinabull. Come fare trading quando il mercato è in bolla, quindi in bullrun? Sigla! Perfezione. Guardate la perfezione di questa linea. Guardate che candelona. Questa è veramente spettacolare. LPT, più 100 EURT per cento in questo momento qua. E siamo a 86 USDT, ma è arrivato addirittura a 101. Spettacolare. Ieri ha fatto un balzo del 60%. Qua stiamo parlando di una candela del 60%. Ieri, 55%. Oggi è andata a fare questa mega candellona, ok? Nonostante la candela gigante di ieri, anzi ieri è andato più giù, ho fatto il minimo, ecco. 60% di candela ieri, spettacolare. E oggi ha fatto un movimento incredibile, ok? Togliamolo questo. Allora, parliamo un po' di come comportarci quando siamo in bullrun, perché sembra tutto facile, quindi qua tutti ci hanno guadagnato, invece no. Era facilissimo prendere degli schiaffi. Quando le candele sono così grandi, è facile che il mercato ti possa correggere e prendere degli schiaffi. We back on the stop, eccetera. Quindi è difficile. Quindi approfitto oggi, che è stata una giornata di grandi movimenti, fra l'altro passiamo, cambiamo schermo. Qua siamo su Bitcoin, ha fatto il nuovo all-time high, 68,524, poi adesso è sceso Ethereum pure. Vediamo un attimo. Ethereum, nuovo all-time high, a 4838, poi adesso è sceso, comunque nuovi massimi ancora. Quindi il mercato sta volando. Difatti, vediamo che abbiamo un bel 104% qua. LTP, poi c'è LRC, più 43, insomma, guardate che belle candele, ok? E oggi andiamo a analizzare i mid-trade di oggi, perché ci sono delle cose interessanti che vi voglio spiegare. Anche le proporzioni delle candele daily, eccetera, eccetera. Ma analizzando oggi vi faccio capire che tipo di tecnica è adatta a questo tipo di mercato. Bisogna adattarsi ad ogni tipo di mercato, ok? Oggi è una giornata tipica di giornata bolla, ok? Di follia. Di bull run, ok? Bull run è bolla. Bull run è bolla, vogliono dire la stessa cosa. Quindi quando il mercato praticamente sale tanto e fa follia. Quindi partiamo dalla sosta pipì. Sono svegliato tipo mezzanotte e 40, più o meno. E, ah, mezzanotte e 28, addirittura. Ho visto che adesso c'è il cambio candela a luna, anticipato per l'orario. Quindi ho detto, vabbè, dai, ho guardato un attimo in classifica se era qualcosa di interessante. E ho visto appunto BAT. BAT che, insomma, era andato a fare i nuovi massimi. Questi sono i nuovi massimi. E poi, avvicinandoci al cambio candela, ha iniziato a fare una lateralizzazione, ok? Ha fatto il doppio manico. Bellissimo. Io speravo, questa era la prima candela del luna, quindi la prima candela nuova, che andasse in rosso. Infatti è andato in rosso, ma ha fatto subito un hammer. Quindi qua ha fatto capire che proprio non ce n'era. Che la 10 voleva super comandare. E quindi, niente, ha messo uno stop limit e me l'ha preso praticamente immediatamente. Appena l'ho inserito, dopo un secondo praticamente l'ha preso. Quindi ho fatto giusto in tempo. E poi, essendo il cellulare, non ho ancora l'applicazione che mi fa vedere il grafico e il book contemporaneamente. Quindi, insomma, almeno peggio, mezzo incoglionito. Sono nato, ho chiuso e va bene. Più 286. Ho fatto questo movimento qua. Però, appunto, anche questa è una cosa da bull run. Perché è difficile che arrivi sui massimi prima del cambio candela e non vada a stornare subito. Di solito quelli che arrivano ai massimi prima del cambio candela poi vanno a scendere tanto e poi, eventualmente, più tardi possono tornare su. Quindi questo era già un primo movimento da bull run. Poi, ecco, questo ve lo voglio parlare perché qua, vedi, ho scritto tantissimo. Di solito non scrivo così tanto quando faccio i post su Telegram. Però, qua ho fatto un errore. Cioè, sono entrato, qua ho fatto la coppa, ok? Quindi qua ho fatto un massimo, il massimo, questa linea qua. Poi dopo è sceso. Io sono entrato qua, dove non bisogna mai entrare, ok? Alla prima volta che torna lì. Però, perché sono voluto entrare in anticipo? In pratica, ho diviso l'ingresso, ok? Ho fatto 10.000 subito e poi volevo fare, eventualmente, nel caso in cui non fosse partito subito, non avrei fatto un altro acquisto. Ma, nel caso in cui fosse sceso, ma meno, non andare a ritestare alla 60. Quindi, avesse fatto semplicemente il manico qua, io dopo sarei entrato con un'altra size da 10.000. Quindi, sarei entrato full size, ok? A 20.000 e per poi andare su. Ma non l'ha fatto, l'ho ottenuto. E, comunque, non ho venduto qua neanche sulla 60. Perché, appunto, come spiegavo, c'è questa regola delle proporzioni. Andiamo di là, ve lo faccio vedere. Allora, LPT, sì, questa è LPT. Allora, qua eravamo a 62. 62 è qua. Mettiamo questo a 62. Più o meno, ecco. Allora, quando eravamo qua a 62, questa intanto è una candela dei nuovi massimi storici. Questo livello qua è già massimo storico. Quindi, ieri, che ha fatto comunque una candela del 60%, ha fatto nuovi massimi. Questa era già una candela gigantesca. Oggi sembra una candela piccola, ma è una candela gigantesca. Normalmente, dopo una candela gigantesca, deve andare in rosso. Infatti, quando ha fatto il cambio di candela, ha sciacquato, è andato subito in rosso, giustamente. E questo dovrebbe fare, no? Nuovi massimi storici. Una candela del 60% il giorno dopo deve riposare, non deve fare... deve andare a toccarla a 5, così. Invece, niente. È andato giù. E poi dopo ho fatto passaggio di colore. E poi dopo, niente. È andato a rompere i nuovi massimi. E quando mi sono svegliato io, qua, infatti, stiamo parlando delle 8 e mezza del mattino, me lo sono trovato che aveva già fatto questo massimo del 602, era tornato, ha fatto la coppa, e poi dopo stava andando di nuovo. Io, al secondo tocco, sono entrato, anche se io consiglio di non entrare mai al secondo tocco, dopo vi faccio vedere. Ma l'ho fatto perché io sapevo che dopo aver fatto una candela di questa grandezza che va a rompere i massimi storici, il giorno dopo non deve andare a fare un'altra candela che va a superare i massimi storici. Ma se lo fa, soprattutto se lo fa che prima è andato in rosso, quindi ha scaricato tutti quelli che hanno avuto il panico di vendere, se dopo mi va a rompere questi massimi, vuol dire che questa candela, molto probabilmente, vorrà andare a fare una candela più grande della candela precedente. Questo accade solo quando si fanno candele in all time high, sui massimi storici, dove sopra non è niente, non ha riferimenti. E vi consiglio di farlo solo se prima va a scaricare in rosso. Quindi prima toglie tutti quelli che hanno avuto il panico di dire, oh cavolo, qua ha già salito tanto, vendo prima che mi torna indietro completamente la candela, quindi hanno paura. Ma se questa candela in rosso non riesce ad andare tanto in rosso e poi fa il passaggio, ha già scaricato gli 7c e questo va a fare follie. Ma le proporzioni delle candele sono molto importanti. Quindi questa candela deve essere più grande della candela precedente. non importa quanto è grande questa, ma se va a fare questo tipo di movimento deve essere più grande di quello precedente. Ricordatevelo. Quindi questo mi ha dato una certezza in più. Ovviamente non vado a giocarlo quando è già qua, però quando era qua la candela era ancora inferiore a questo. Ha già fatto un rimbalzo. Quindi torniamo dove eravamo prima. e quindi qua che quando ha testato i massimi non l'ha rotto avrei dovuto vendere subito, normalmente si fa così, ma ero talmente sicuro che comunque sarebbe andato a fare quella candela più in alto che ho ottenuto e semplicemente ho detto farà un'altra l'annellina e poi rientro full size. Invece è andato a testare la 60 per ben due volte, quindi quando siamo andati a romper non ho fatto l'ingresso, mi sono autopunito, non ho fatto l'ingresso doppio. Ho fatto comunque il mio movimento del quasi 4% e più 360 USDT, ok? L'ho fatto. Ma comunque, a parte questo caso che nel daily c'è la candela appunto delle proporzioni, vi sconsiglio assolutamente l'ingresso al secondo tocco, quindi nella coppa, ok? Lo vediamo anche più avanti. Questo è Geox che continua a regalarmi scarpe a non finire, piazza affari. Ecco, questo è un esempio del terzo tocco, quindi va a fare i massimi, scende, ritocca, qua non si entra mai, non entrate mai, ok? Al secondo tocco non entrate mai, perché è vero, potrebbe andare a rompere e fare nuovi massimi, ma percentualmente è una percentuale troppo bassa per poterlo fare in serenità, quindi io ve lo sconsiglio, ok? Basta fare un piccolo ritracciamento, qua per esempio avevo già lo stop limit, quindi qua sarei entrato nel caso in cui avessero 8, quindi qua può già avere la forza di poter rompere, ha già una percentuale di win molto più alta, addirittura testa alla 60, quindi qua praticamente diventa la certezza matematica, sembrando il quarto tocco, il quarto tocco quando c'è, è entrata pure con la casa e di fatti di fatti io volevo entrare con 15.000, quindi con una size più grande, 15.000 con una size più grande, ma c'è stato poco da fare perché sono stato fillato solo 3.000, ok? Fra l'altro mezza Bull Family ha fatto questo stesso ingresso, mi ha fatto morire da ridere perché anche loro non sono stati fillati, insomma, gli ho presi io quei pochi che erano rimasti e niente, e comunque ho finito la mia operazione, ho tirato su 84 dollari lo stesso, 3.000 su 15.000 e vabbè, pazienza, però quello che vi voglio far capire è non si entra mai al secondo tocco, non fatevi ingannare da questo movimento, il secondo tocco lasciatelo stare, ok? Ha una percentuale di successo troppo bassa, quindi andatemi a farvi male, aspettate il terzo tocco, il terzo tocco potete andare, ok? Provate, poi se anche il terzo tocco comunque supera e torna indietro, dovete vendere, non esiste inserire uno stop loss, eccetera, sale, torna indietro, vendete subito, non dovete aspettare l'EMA 10, dovete aspettare uno stop loss, niente, si vende e basta, ok? Fine, ma aspettate il terzo tocco, andiamo avanti, qua vediamo lo stesso, la stessa cosa, un terzo tocco, non sui massimi, ma semplicemente abbiamo trovato un livello col terzo tocco, quindi ha toccato qua tornato indietro, ha toccato qua tornato indietro, al terzo, soprattutto se va a ritestare la 60, quando torna, qua ci puoi entrare con la casa, io qua non sono entrato, sono entrato qua perché qua c'era un livello grande nel book, quindi l'ho posticipato, ma effettivamente potevo tranquillamente entrare qua, anche se c'è un livello più grande, ok? Però era molto grande, ho detto, vabbè chi se ne frega, entro, tanto comunque ero sotto ai massimi, quindi capivo che dopo ci sarebbe stato spazio, ho fatto il mio 2,38%, qua sono entrato con 12.000 e ho fatto i miei 280 OSDT, ok? Però, quando c'è il terzo tocco ad un qualsiasi livello si può entrare, il terzo tocco è quello che ci dà il permesso, ok? Quindi questo è il terzo tocco magico, guardatevi il terzo tocco, questo invece è partire dal supporti che io amo in Bullrun, questo è fantastico perché rischiate poco, quindi, quando c'è qualcosa che è salito tanto, qua è l'RC, qua eravamo già più 37%, torna da sotto la 60, 223, poi torna a testare questo livello, quindi l'ha già rotto, torna a testare, fa candelline, eccetera, qua mi ha dimostrato che la 60 ha tenuto, ha fatto uno spike sotto, ma comunque ha tenuto, tutte le candele sono chiuse sopra la 223, la prima rottura io entro, ok? Infatti sono entrato, poi non ho fatto la chiusura sotto perché ho tenuto come stop che comunque era molto vicino, quindi ho qua una perdita veramente che faceva ridere e lo stop era con lo stop limit ma non appena rompeva ma doveva andare a rompere questo spike, ok? Questo era il minimo, quindi era un livello che ha fatto da supporto e quindi entro lì, non entro più con la 223, tanto la perdita era una roba ridicola, quindi non era un problema e questo è il bello quando si entra con i supporti, ok? Deve dimostrarlo però, non è che mettete un ordine appena tocca e comprate, no, deve dimostrarlo, dimostrarlo significa toccare tante volte, la 10 ha schiacciato il prezzo e quando rompe si entra, ok? E niente, dopo ho tenuto, non ho tenuto fino ai massimi perché ha fatto già un movimento del 5,5%, mi sono accontentato, sono 544 USDT, ma in teoria questo era un movimento che doveva portare a fare nuovi massimi, ok? Che poi dopo li ha fatti, ma io comunque mi accontento e accontentatevi anche voi, mi raccomando. qua, ecco, qua bellissimo, anche qua, terzo tocco, dov'è il terzo tocco? Lo vedete il terzo tocco? 1, 2 e il terzo, ok? Il terzo tocco si entra ovunque, poi dopo non era preciso, ma sono entrato sul livello, quindi 74, ok? Al terzo tocco individuato il livello e si entra. Qua ha fatto un altro 3 al 74%, non ho venuto ai massimi, ma è andato a fare un bel movimento, subito, senza problemi, e qua sono altri 379, ok? Bellissimo, terzo tocco, fidatevi, terzo tocco. Qua sono andato a fare la stessa cosa, praticamente, qua ho visto che è andato sotto la 223, qua stiamo parlando di un più 108%, cioè LPT, ok? Quindi qua eravamo su, 84. Perché mi sono fidato? Perché è andato a fare il terzo tocco, 1, 2 e 3, ok? Un po' sporco, ma comunque dopo dopo che ho fatto l'ingresso, la 60 ha tenuto, il livello comunque di vendita era questo qua, se un problema si torna su, viene. Poi qua, ovviamente, mi sono accontentato al 6,27%, qua trotto su altri 617 USDT, però bellissimo, ok? Sotto la 60, torna sopra, ritesta, quando ritorna su si può fare l'ingresso, ok? Lo stop deve essere sotto al ritesto, già dove è ritestato. Andiamo avanti. Quindi non importa fare i massimi, ok? Quando qualcosa fa un movimento molto grande, prima o poi deve andare a riposare, quando va a riposare va a testare le medie mobili. Quando fa il terzo tocco si può entrare o quando comunque dimostra un supporto, dimostra il suo supporto si può fare l'ingresso. Questo sempre LTP, qua più 116% a 90, guardate che roba. Guardate che roba. E qua, sotto a fare sempre un discorso del terzo tocco. E qua fatto su altri 476%, spettacolare. LRC, guardate che bel movimento, bellissimo. Laterizzazione, candelline, candelline, quindi una, anche se è una piccola conformazione, ma questa è una laterizzazione con EMA 10 che comanda sottvicino il viola, io uso la linea viola sempre per i massimi di giornata, massimi di giornata, piccola laterizzazione, questo è un sogno, pulizie, questo è un time frame un minuto, pulizie, EMA 10, perfezione, guardate che roba, tenuto benissimo, l'ingresso, obbligatorio, 265, c'era il livello che ha tenuto sotto, ha tenuto schiacciato, quindi qua nel book ci deve essere un livello che tiene schiacciato, perché il prezzo se no non rimane sotto, quindi viene compresso, si carica la molla, facile, ok, altro 4.8%, qua si hanno altri 455, avete capito? Pulizia, perfezione, spettacolare, questo è che ora erano? Questo è, che mi sa che ho finito, mi sa che era l'ultimo questo, sì, sì sì, questo era l'ultimo, ok, quindi, video breve, ma comunque importante, quindi, in Bull Run, fate attenzione, cercate la pulizia, cercate la pulizia, la perfezione, le medie mobile che tengono, gli incroci, una piccola lateralizzazione, ok, i livelli, il terzo tocco, non fatevi fregare, non fatevi fregare dal secondo tocco, ok, il secondo tocco è un qualcosa che vi massacra, non entrate al secondo tocco, il terzo, a qualsiasi livello, sopra la 223 o la 60, che va a testare tre volte un livello, lì potete fare un ingresso, se poi avete i massimi lì vicini, perfetto, quello è il vostro ingresso anticipato, sul breakout, così, se poi va a fare il breakout, e torna indietro, avete comunque guadagnato, quindi non avete lo stress, ok, dai, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi a Telegram, sui due canali Telegram, su YouTube, e su Discord, ma attenzione, adesso, alla fine di ogni video, vi parlerò di una cosa, noi, adesso ormai, siamo una famiglia enorme, migliaia e migliaia di persone, e quindi, iniziano a romperci le palle, gli scammer, ok, cercano di truffare, le persone, gli ingenui della famiglia, quindi, vi spiego, una volta per tutti, per iscrivervi alla Bull Family, quindi a Telegram, YouTube, e Discord, usate solamente i link, che trovate in descrizione su YouTube, sotto ogni video, c'è l'elenco, dei link di YouTube, cliccate solo lì, perché vi dico questo, perché, se andate su Telegram, e scrivete, Scalping the Bull, usciranno anche altri, Scalping the Bull, anche quelli fasulli, che appena vi iscrivete, questi qua vi scrivono, ciao, sono Bull, mi dai 200 euro, che ti insegno privatamente, io non chiedo, soldi a nessuno, non scrivo a nessuno, voi non potete scrivermi, l'unico modo per scrivermi, è scrivere un commento su YouTube, o scrivere su Discord, nella stanza, Scalping the Bull, basta, io non vi scriverò mai, a nessuno, e voi non potete scrivermi, privatamente, su Telegram, e su Discord, in privato, non potete scrivermi, ok, quindi io non vi cerco, e voi non cercate mica, è inutile, scrivetemi solo nei commenti, e basta, ok, io non vendo niente, è tutto gratis, quindi, se qualcuno vi chiede, nei commenti di YouTube, su Telegram, o su Discord, dei soldi, e soprattutto, usa il mio nome, quindi Scalping the Bull, e usa anche la mia immagine, non sono io, ok, mandatelo immediatamente, affanculo, non sono io, diventiamo intelligenti, ok ragazzi, e segnalatelo, così li blocchiamo, quindi, ad ogni video, alla fine, vi spiegherò, tutte queste cose qua, Scalping the Bull, sono io, e non vi scriverò mai, e voi non mi scrivete, perché tanto non potete, ok, non c'è modo di potermi scrivere, non vendendo niente, non c'è nessun bisogno, voi, volete scrivere, commentate YouTube, o scrivete su Discord, ok, non c'è bisogno, o scrivete nella chat, su Telegram, ogni tanto rispondo, quando riesco, eccetera, ok, però io non vi scrivo, di sicuro, perché è giusto che sia così, insomma, e non vi vendo niente, ok, noi siamo diversi, non vendiamo niente, non vendiamo fuffa, non vendiamo pentole, non vendiamo niente, ok, grande ragazzi, ciao.